no a parte tu ti vuoi far vedere a che livello tu puoi arrivare però se non si capisce la tecnologia dei capelli intelligente non puoi neanche capire perché tu fai questo l'anno inquadratura così e guarda c'è anche il grande vinto l'anno inquadratura così è stato fatto la chippe l'intervento è durato 12 ore per il trapianto lui poverino ha dormito sotto meno male se sia totale grazie vedete un trapianto di ger così è il prof che noi si lavora anche non si fa in strategia con le formici e in battenza anche poi sono mezzogne perché noi ci vende mezzogne è vero noi vendiamo mezzogne vendiamo è vero il mio amico nonché titolare dell'azienda vende sogni non realizzati come vedete non vende assolutamente poi c'è una modulazione pazzesca qua si stacca dopo due ore ragazzi a me mi dispiace quello che vedete dopo dovete ritornare dopo due ore perché prima di pranzo tornate e poi niente no però comunque sia io sottolineo che non lavoro qua però mi fa veramente vedere certe cose certi video messaggi di di chiarificazione di cioè la verità che noi non vendiamo sogni noi vendiamo questo noi vendiamo questo non vendiamo solo massi non vende i sogni vende questo massimiliano titolare dell'azienda non vende i sogni vende questo cioè ma neanche dopo noi noi si legala no 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 ma a parte la parte di la parte di non è vero dai ragazzi mi sta prendendo un giro sono capente dei clienti come dice venome sta arrivando incideca non resiste il prof ha visto il prof ha visto il venome non lo sa ho visto il venome bianco si attaccherà come come una cosa su tutti ha visto il film che ha visto allora ragazzi lasciate il barattolo di colla dentro il cestino mi raccomando eh va bene eh oppure anche il franco un prodottore sembra visto il film venome quando li si attacca e quello si attacca in quel modo è tremendo e come si è fatto il geco venome ragazzi allora ci sarà il geco venome ora è presto però spiega un po' realmente invece di scherzare aperi intelligenti perché sono diverse aperi normali c'è a giro da sanno delle protesi normale no vabbè anche gli altri avranno qualche cosa purtroppo non hanno la nostra tecnologia si devono incontentati qualcosa di come sta il ragazzo sta bene no c'ha qualcosa infatti si dice tutti così quello c'ha qualcosa speriamo sia poco no i nostri capelli come essere capelli proprio veri e diciamo proprio come i nostri capelli di ricrescita naturale ho capito quindi può fare tutto quello che vuole se forse ricresceranno sì mi sa di sì ragazzi allora mi raccomando eh guardatevi ancora bene i capelli intelligenti ma non aspettate oltre eh fate una vostra una volta scelta io farei una provata in tasmat e abbandonare la colla che ora arriva il caldo il caldo estivo eh ragazzi se no tocca stare sul divano a guardare sky per fare chiarezza guardate quanta colla che c'è per fare chiarezza no per essere guardate cioè questa qui è tutta colla questa qui bianca come vedete tutta colla innestata dentro alla veramente alla capsula no alla cosa perché noi massi 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 peccato che non ha creato nulla peccato perché ci sono sei brevetti no c'è solo sei brevetti ma è tutto un fake è vero allora ragazzi mentre Mirko è polemico eh noi vi salutiamo bene e facciamo l'inquadratura del Giacomo Venom io amo allora allora